Abitazioni sociali, uffici a servizio dei cittadini, casette a schiera e una nuova casa della cultura. Ecco il nuovo progetto per riqualificare il San Benedetto, grazie ad un accordo storico tra Comune di Pesaro, Regione Marche e Asur. La riqualificazione del complesso immobiliare, la cui storia racconta negli ultimi anni progetti, tauli per mettere fine allo stato di degrado e abbandono dell'immobile, prevede più fasi. Nella prima, il Comune si impegna ad approvare una variante urbanistica al piano regolatore generale per spacchettare le destinazioni d'uso del complesso, suddividendo il San Benedetto in quattro aree per un totale di circa 15.000 m2 di superficie calpestabile così divisi. Più di 5.700 m2 saranno destinati alle residenze pubbliche. 6.080 m2 del complesso saranno destinati ad uffici direzionali dell'Asur. Di oltre 1.000 m2 sarà composta la superficie per le residenze private. E infine un'area culturale per cui sono previsti quasi 1.500 m2. Dopo il passaggio e l'approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale, l'Asur si impegnerà a cedere allo spazio della lavanderia, parte a sud del complesso, al Comune di Pesaro. Allo stesso tempo provvederà ad un intervento di recupero edilizio degli spazi tra via Belvedere e via Mammolabella, quelli che si affacciano sul giardino interno, per destinarli ad uffici direzionali. Cessione ed interventi che verranno realizzati con il contributo della Regione Marche, che si impegna ad approvare le determine Asur per il passaggio degli immobili, a collaborare economicamente al recupero edilizio e a vendere come residenze private gli immobili che insistono su via Mammolabella. Parallelamente, il Comune di Pesaro, con il sostegno di Regione Marche e Asur, parteciperà al bando abitare per il recupero della parte principale del San Benedetto, quella che si affaccia su corso 11 settembre, da destinare ad edilizia residenziale pubblica. Nel caso in cui il bando vada a buon fine, il Comune di Pesaro diventerà proprietario della parte in oggetto, corrispondendo ad Asur un controvalore. Il costo totale dell'operazione è di oltre 40 milioni di euro e gli interventi di riqualificazione sono stimati intorno ai 37 milioni. Il 16 marzo quindi la prima scadenza, data entro la quale Comune e Regione presenteranno un primo progetto per partecipare al bando di rigenerazione urbana da 15 milioni di euro. Queste quattro iniziative fanno in modo che ci siano serie possibilità, secondo me, di poter arrivare a divenire in tempi ragionevoli, usiamo questo termine, in tempi ragionevoli, ad una soluzione di questa iniziativa. Il progetto che il Comune di Pesaro sta portando avanti, che sarà presentato entro il 16 di marzo, per questo c'è anche un po' di fretta nel farlo, se questo bando potesse vedere vincente il Comune di Pesaro sarebbe un buon viatico perché vorrebbe dire effettivamente iniziare da una parte importante, che è tutta la parte che è da soccorso 11 settembre, diciamo sul centro della città. Se il Comune riesce a ristrutturare quella parte lì, in automatico partirebbe anche la parte subito ristruttante portata avanti da Asur. Non dovesse andare a buon fine, tra virgolette, questo tipo di impostazione in questo bando, rimane comunque valida l'iniziativa perché secondo me da qui alla prospettiva, bandi vari, recovery fund e quant'altro, ci possono essere fonte di finanziamenti importanti, indipendentemente da questo bando già uscito in questo momento, al quale stiamo partecipando. Grazie all'interesse dell'assessore Agusti della Regione abbiamo trovato subito un accordo con il Comune su come intervenire, sapendo che siamo davanti a una fase straordinaria dal punto di vista degli investimenti, bandi nazionali, risorse europee che arriveranno, e abbiamo nel giro di poche settimane definito il quadro, dove ognuno sa che cosa dovrà fare. La parte che interessa maggiormente al Comune di Pesaro è quella culturale vicino alla biblioteca, per allargare gli spazi della biblioteca e anche per fare una sorta di casa del Rossino Opera Festival, anche con residenze artistiche. La parte invece sul corso, il bando è sulla rigenerazione urbana, legata all'abitazione, ci sono però anche diversi interessamenti dal punto di vista del socio assistenziale, socio sanitario. La parte invece di competenza della Regione sono uffici e invece la parte su Via Mammola Bella sono abitazioni. Quindi diciamo un intervento misto, diviso per parti e per competenze, ma unitario nella sua progettazione.